Sincronismo e affiatamento sono i requisiti base. Non voglio svelarvi altro per non rovinarvi la sorprendente sorpresa. Un pezzo sicuramente molto difficile sia tecnicamente che psicologicamente, già solo dal coraggio che hanno nel presentarsi così. Forte l'applauso per Lorenzo, Gabriele, Saveri e Mario con la straordinaria partecipazione di Luigino il Bagnino. Non so che ci vuole coraggio a fargli l'applauso, però bisogna che glielo facciamo grande altrimenti questi. Ecco facciamo un po' di stracci. No, 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 non abbiamo tempo per queste cose. Voglio fare un self-service. Come un self-service? Vorrei dire un selfie. Ah, quello è self-service, selfie. Sì, sulle mani! Tutti sulle mani! Sorridete. Qua non c'era bisogno, comunque grazie per la partecipazione. Ci siamo? Adesso che hai fatto anche il self-service lì... Siete inguardabili, ogni sera è sempre pezzo. Non voglio sapere come vi conciate in settembre. Ah, l'acqua, mi dicono l'acqua è un po' fredda, abbiate pazienza. Ci siamo? Ok, per voi, nuoto sincronizzato! No, 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 no. Poi, barà, barà, bere, 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 bere... Bara, barà, barà, bere, bere, bere... Oggi, vola a outra festa, quero ficar con você. Bara, barà, barà, bere, bere, bere... Bara, bere, bere... Bara, bere... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La clientela è anche di qua. Chiedo scusa perché avete visto il pezzo dal lato più bello, mi dicono, più o meno.